Mettere la firma oggi con un traguardo già stabilito sarebbe insomma come fare un passo indietro. Nessun limite, nessun traguardo minimo, Michele Pazienza non vuole paletti per la stagione 2020-2021 del suo odace Cerignola. Ospite degli studi di Telesveva, l'ex centrocampista tra le altre di Napoli e Juventus, ha tracciato un bilancio della prima settimana da guida tecnica dei Giallo-Blu. Silletti, Amabile, Esposito e Leonetti sono i volti alla casella Nuovi Arrivi, ma tante sono le operazioni di mercato da definire. Il corpo principale di questo progetto io credo che sia la motivazione. I profili vengono scelti in base a questo. Quante motivazioni hanno i ragazzi che vogliono indossare questa maglia. In base a quello poi faremo le valutazioni necessarie. Nomi, quelli dei quattro acquisti ai quali si aggiungerà presto Prinari Dalfasano, un elenco da sommare ai confermati Siku, Cagliazza, Tricarico, De Cristofaro e Russo, profili giovani che secondo l'allenatore dovranno essere accompagnati anche da figure di riferimento. Per quanto riguarda Tricarico ho avuto già modo di sentirlo, il ragazzo è abbastanza carico, ha voglia di ripartire subito ed è sicuramente un giocatore che farà parte del nostro progetto e del nostro percorso. E' chiaro che tutti i profili che stiamo valutando sono tutti profili, è vero, giovani, ma questi giovani, come ho detto sia al direttore che alla società, per forza di cose devono essere accompagnati da delle figure importanti, da delle figure che hanno delle esperienze importanti per la categoria, per il nostro girone e che possono dare poi la possibilità anche a questi giovani di crescere nel modo giusto. Tre difensori e quattro centrocampisti come base fissa, tanta fantasia negli ultimi 30 metri, pazienza, idee chiare sul campo, retaggio degli insegnamenti, di tanti riferimenti della panchina che lo hanno allenato, da Prandelli a Conte, passando per Mazzarri e Pioli. Ognuno di loro a modo suo mi ha dato qualcosa, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista caratteriale. Perché poi il ruolo dell'allenatore, questo mio nuovo percorso, e in questi due anni l'ho capito ancora di più, è un ruolo completamente diverso da quello del calciatore. Ti ritrovi a gestire tantissimi ragazzi, ognuno con la sua personalità, ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con il suo modo di fare e di essere. La parte più grande, secondo me, è più importante l'aspetto della gestione, nell'entrare nella testa del calciatore che tu ti ritrovi ad allenare per farlo rendere al massimo. Senso di appartenenza sarà la parola chiave dell'audace Cerignola 2020-2021, un concetto da trasmettere anche ai nomi trattati in entrata, come gli Urni, Allegrini, Cosentino e Flor del Mundo. Sono dei profili che stiamo valutando, così come quello di Prinari, però ora ci sono delle dinamiche che vanno rispettate, che vanno lavorate, e questo è il ruolo dei direttori sportivi, e ci stanno lavorando.